Gino stai guardando questa foto con Diego, che stavi pensando? Stavi pensando che non so a chi capirla la prima cosa e stavamo a casa di Andrea Carnevale, una delle tante scene che si organizzavano in quel periodo a casa dei calciatori Periodo scudetto, adesso senti lo stesso odore in questo periodo? Sì, infatti sai che noi tifosi, essere tifosi del Napoli, non è come essere tifosi della Roma, Romila, Linder il tifoso del Napoli è un mestiere, c'è un mestiere che fai? Faccio un tifoso del Napoli e che hai fatto a fine maggio? Hai vincito di scudetto, una Coppa F, sei Coppa Italia, due Supercop quindi si presenta proprio un curriculum e di conseguenza questo laboratorio, chiamiamo così questo studio dove io lavoro, penso, è attrezzato anche per il tifoso del Napoli Allora questo è un po' il tuo regno, ci sono tantissimi ricordi, qui hai anche immaginato tanti spettacoli come quello che il venerdì esordisce all'Augustio di Napoli Sì, Rimettetevi Comodi, che riprende un titolo del 2005, Mettetevi Comodi Che ha le tue spalle? Che ha la tua cantina alle mie spalle sono passati 18 anni, di quell'impianto è rimasta l'orchestra, è la stessa, la minale Big Band chiaramente i contenuti sono tutti diversi, monologhi, canzoni, tanta bella musica è una terapia comico-musicale che vi invito ad ascoltare, a vedere è uno spettacolo di cui c'è bisogno perché visto il momento, insomma un po' di leggerezza un po' di evasione non guasta e con me c'è una bravissima ballerina cantante Federica Vallone, acrobata e quindi insomma per tutte le famiglie Senti, ma ci sono tanti ricordi, io voglio approfittare perché mi sono fatto un giro e ci sono anche tante cose belle, in questo librone delle testimonianze mi è caduto l'occhio su questo di Vincenzo Muccioli, il tuo impegno sociale non è molto noto ma è tangibile, c'è stato Sì, è tangibile molto, questa è una serata in particolare che insomma mi ricordo molto bene perché era la sera di Ferragosto del 94 e esibirmi davanti a 2000 ragazzi ospiti dell'istituto, ospiti di San Patrignano con Vincenzo Muccioli, con la Moratti che è una cosa molto emozionante e c'è un bellissimo ricordo di Vincenzo Però nella tua storia artistica c'è anche quello di aver tratteggiato alcuni aspetti della napoletanità mi viene in mente la voglia di fare il falso di qualunque cosa come racconta un film fortunato al cinema, anche tu sei stato vittima del pezzotto Sì, è proprio il Gino Riviecio Show, è un cofanetto che uscì nel 2008 qua c'è l'originale e qua c'è il pezzotto e un mio amico me lo regalò perché dice guarda qua, magari l'ha trovato due pezzotti di Gino Riviecio per fortuna Gino Riviecio è uno ed è anche originale